Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nel 53esimo puntata della STA. Oggi siamo qui con... Sì, su, ciao a tutti. Allora, dato che stavo concimando qui con il 516 e il chimico, ma mi è venuto in mente... Il piccolo chimico? Eh? Ma dove che scorre il piccolo chimico? Ma dove? Altro che chimica, ecco, parca tre. Ecco, sono sbagliato la seglia. Oh, che buce! Che sta buce, l'acqua che c'è bloccata la zamba, io rendo. Stavo pensando che noi potremmo prendere il 93-10 e comprare... Ah, volevi dire il 93-40, eh? E qui renderla molto più grande del gioco. Eh, boh, boh, piano... Eh, piano. La venue... Mi, 165.000 euro, ma a me piace. Allora, per la raddurezza di tre gambe e la semina sono... 20.000 euro. 20.000? Eh. Per la concimatura e io poi le cani ti devo fare due volte tutti i campi, è vero? Sì, come sempre. Adesso ti faccio il prezzo. Comprata la botte? Arca troia! Ne sto pure per comprare due. Eh, io mi stavo per comprare due. Eh, io mi stavo per comprare la zonora, perché stavi sbattendo la pianta e la mancavo due. Anzi no, probabilmente si mancava la pianta. Ora ho comprato una botte che ci sta dentro tanto liquame che non c'è manco da riempirla, scommetto. E quando c'è una leguame? Non lo so, ma ho preso una botte che ne porta 30.000. Eh sì, ma c'è sto botto. No, boh. Non c'è di quella sulla salita. Che lo dopo lo fa la 9340, se no. Non gliela fa sulla salita. Sì, non ne sprechi. Dai, vieni a due allora, vedi qua, me ne sprechi. Guarda che c'è la mod che ti... Base a quanto vai, te ne butta di più. Cioè, io raggio io. Eh, certo. Eh, se mi ha morsicato dietro a... Ma che cazzo? Ce l'ho tenlinita acuta. Devo gli maniare. Buon appet... Buon appetito. Cosa stavo dicendo? Ah, sì. Perché per stare a spendere i soldi, più costa è più spendere i soldi. No, a parte che col concime consumavamo, cioè... Giusto per cambiare un po', perché se no non ce lo riprenderemo mai la spesa di questa botte. Proprio mai, mai, mai. Dai, mi sta un buon lavoro, se devi mangiare. E vai? E tu mi fai stare a solo? Eh, con chi te? Allora, quando tra poco arriva Simo. Eh, se mi fai. Va bene, non ci credo, non ci credo neanche io volevo questo. Eh, tu, sta tranquillo. Quando or vai, or vai. Va bene. Faccio il monologo, giudizzo. No, non so perché ci ho attaccato la zavorra, a dire il vero. Non lo so neanche io. Però ce l'ho attaccata. Adesso la porto in farm e ce la ristacco, tanto. Il gorbo se è grossa, la facevo un pochettino più piccola. Porca miseria. È tre volte il trattore. È più larga, è più lunga ed è più... No, più alta no. Beh, se andiamo a vedere i tubi, sì, è più alta. C'ha... C'ha 60 anni in due, sta botte. Però è bella, eh. A me mi è sempre piaciuta, quindi ho deciso di prenderla. Potremmo anche andare di letame, eh. Letame di sicuro non prendiamo lo span di letame più grande. Anche perché prendere le altre non lo so. Però non voglio fermarmi. Cioè una volta che cominciano mi va di magari sono qua, tornare alla farm... Alla farm e poi di venire qua. Quindi ho preso la botte grande. Anche perché... Ok, che stiamo facendo... Wow. Ma se schiacciamo tutto. Che... Abbiamo 250.000 euro di debito, che sono tanti, ben. Ma è anche vero che abbiamo due milioni... Un milione e mezzo, tipo... Di insilato nella vasca, quindi... Un milione e mezzo di euro lo facciamo sicuro. E... Poi... Quando mi ritroverò con tutti quei soldi, sarà un problema non sperperarli... Incavolate, del tipo furgoni e cose del genere. Perché mi conosco troppo bene. Un milione... Un milione e cinque. Di lì, un milione e quattro e cinquanta, insomma, ne sono... So che... Ancora un altro carro... Buonasera. Io, Riki, no? Ma tu che fai l'agraria? Buonasera. Buonasera. Oh, oh, oh. Allora, stacchiamo un attimo questa, che mettiamo purtroppo la zavorra. Ho comprato... Ho fatto un acquisto, Riki, che... Cosa si comprava? Ho comprato una bo... La botte più grande che c'è. La Gossini? No, la... La... La Venis. Che è più grande ancora, in teoria. Ah, no. Beh, come larghezza sì, però. Ah, no, ma... Ma questa portava di più. Ed era più o più larga. Ah, beh, ma costa due volte tanto, beh. Non mi è sopporto quella più grossa, invece. Ma a me piace più questo parte di scherzo, non mi piace la Samson, non mi piace. Poi, quattro volte più lunga ancora. Già questa è lunga. No, 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 sono contento di aver preso quella lì. Ah, beh. Perché... Perché sì. Mi piacerebbe che il sollevatore si vittravi. L'importante è che ti fa piacere. Eh? L'importante è che ti fa piacere. Ah, quello sempre. Ora... Ecco. Ciao, Simo! Di ti fa piacere e arriva Simo. Eh, parli di piacere e entra Simo. Eh, Simo. Tu sei sempre il primo, sì. 88.000 litri di liquore. Buonasera! Ma che ho bene, un attimo. Sì. Ficchia un po', dai. Oddio. Una bella botta. Non la faccio. Eh? Non gliela faccio. C'è un po' che vuole la bottiglia dello tè per fissare. Ah, quelle bottiglie con il buco largo. Eh, eh. Asciano, vai. Uh, Simo! Senti cosa c'è nel clownfish tutto per te? Eh, di tanto! No, aspetta, non è questa. Sì. Questa, eccola. Ah, ecco. Venuto. Ah, ecco. Ah, ecco. Ah, ecco. Ah, ecco. Cucco, è. Cucco, è. Cucco, è, ecco. Cucco, è, ecco, ecco. Oh, ecco. Stai lagando. Ti stai allagando. Non so, capito. no, io su questo trattore non ci ho messo la gps, porca va bene, lo puoi rimettere un attimo che non lo so se nero? oh, va bene questa ha un'umidità di fuori? si, lascia perdere tutta nebbia c'è l'umidità al tipo 99% ma sai davanti che non vede più la nebbia qua? sarà da st'autunno da st'aprimavera, scusa e tira tre correglie, dopo tre correglie vede la nebbia me, 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 me sa scordato a 30 metri ok, senza offset, si si spento ok si può fare che voce è? me, me, me gli da p, 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 3 adesso 10 la saliva ah, pensavo che era lì allora liquame 14 da salvia liquame magari fosse così liquame 14 ok liquame la, 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 la bastiamo un po' il consumo eh no, neriti oh, adesso, oh finiamo la puntata in sincro te lo dico io, te lo dico si e, io scopato eccoci tornati ragazzi allora la sincro è finita dopo, vabbè ho fatto bene a chiudere il video perché è durata tipo altri due minuti ma aspetta lo sto dando lì qua sì, sì, sì sì, ma ne va giù un sacco eh, mi, mi metti la mod quella che, che e ci sta la mod ma eh, sì, sì se vedi che, che a terra c'è, c'è sedere ma io vorrei che ce ne andasse ancora di meno non si può porca miseria ho già votato una botte con un campo porca miseria tu dimmi boh io mi metto a fare col chimico, eh quando, quando finisco il liquame ah, che lo vado a comprare si allora magni oh tra l'altro ora me appunto le piante, ecco eh, uden ehm ah ma finita qua ma quanti giga è, Simo? eh qua c'è due giga, eh porca po' tu dici mazio, io uno ma a pranzo ne ero scargati uno e che co tamborini, buonasera eh, ma sti facendo tamborini, buonasera 99, buonasera Samo, non ti sei perso quasi niente perché, eh quando sei andato via te dopo è entrato Ricky si è messo a farla sincro è durata mezz'ora l'ho tagliato tutto quindi sono tipo a tre minuti di video circa ah per informazione per fare il campo 14 ci va mezza botte ne va tanto per fare un campo? eh? per fare tutto il campo 15 14 ci vuole ho fatto, guarda vedi il pezzo nero, diciamo scuro eh, quello l'ho fatto col chimico tutto il resto l'ho fatto con questo ce n'è andato giù il 40% beh, non è tanto sono 12 mila litri eh toradro che dobbiamo fare lo stupido oggi aggancio la figa del terreno pulisci l'enu cavalca dentro ci ha accelerata tutto ti prego ma manco sta con la genna perché se non c'è la dossier rotta sta botte ho fatto una doppia fregatura prima parlavo tra me e me perché ero da solo e dicevo che sarà un problema mantenersi milione di euro che farò perché conoscendomi andrò a sperperarle tutti in furgoni i camion e cose varie quando ne fai più di un milione? vabbè in senso sai quanti sprinter ce avrò parcheggiati in farm? beh, sto contando per te ma era per far ridere facciamo idea ci stai scorda apposta voglio dire oltretutto ho preso anche una doppia fregatura perché sta botte è grande e lui è larga insomma è tipo c'è la barra dietro che è 30 metri e fai conto che non mi giro da nessuna parte qualunque cosa devo chiuderla io penso come ci vago quel lito con le quame che ho fatto da quando c'ho le vac che c'ho c'ho concimato sì e no tre campi c'ho dimostrato tre campi ma come si fa ma l'altra botte non consumava di meno Samu ma per me pure poco lo che ti ho fatto ma come pure poco ma quanto o ma tanto mi fai tanto io sì provo a prendere la spandietà tanto giusto per buttarvi i soldi buttiamoli via per buttarli buttarli via per buttarli via ma piste di prima eh devo investire sì è vero non è che più questi siano degli investimenti fatti tanto bene a dire il vero però se vado più piano ne consuma di meno la cosa brutta è che tipo in alcune parti tipo questo campo qua mi tocca per poco ripassarci e butto via un sacco di liquame mi da molto fastidio sta cosa a sto ciro bisognerà bene come 15.000 nuovi veicoli oh che è successo cosa ho fatto ho comprato qualcosa per sbaglio serio no mi è comparso in alto a destra 15.000 nuovi veicoli un attimo che mi ha messo a scrivere per so eh stavi che ti sto scritto oggi uno stavo a tagliare l'erba no? con la ragazza sua con la ragazza sua eh stavi tagliando l'erba po? eh eh arcoio stavo arcoio probabilmente ria uno mi fa guarda io c'è io una frattina eh da fa no? tanto lunga ma corta era 50 metri eh questa è quella di 3 km no quella la faccio a pezzi eh c'è una frattina cosa ti hai detto? c'è troppo la moto ma c'è poco ma è alta c'è poco la motosega con la motosega eh eh è la motosega con la lana posta però è ad otto metri eh otto otto metri eh sta conviti si è si è andata e gli è andata incontri come fai gli haci l'automegico a scala come i dati gli haci ah no io la taglio ah la laccio stucco tutto stucco lo capito lo capito capito ah pensavo prendersi l'autoscala dei pompieri si 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 bobbio l'agrobbio eh e di chi che sta fa una persona impedita mangiando sta questo non c'è scritto quanto sforge mi si intende me di passare i soldi per per il campo e io devo pagare le congimature eh allora due congimature mi dai stavolta perchè mi devo ripagare la tre la la cosa un po' di più va bene 22 e 5 ma parati sei e ho c'è anche un campo in più eh delle altre volte vabbè te la comendimi la non va bene non non ti qui qui ci ti fa piacere bro dai e tu a te quanto ti devo dare 20.000 ma che cazzo è successo ma prima mi sembra cioè tu pensa io per attere i gambi giri me cioè nel senso spendo più per farmi congimare i miei che congimare i tuoi ma tu mi hai detto solarare mica anche concimare e seminare ah è tutto tutto quanto no 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 ah perché sennò dicevo poco cioè nel senso adesso lo so che era tutto non vedrai altri soldi finché non fai tutto il lavoro eh lo so ma tu guarda come sono costretto a concimare in retromarcia tu guarda oh Dan metti quella mi fa' andiamo a sentire qua qui ci ha un pianto ecco questa cosa rapido, rosco violenta oh ma slitta adesso eh? slitta di babbo natale Conciima, schifo, perché sto concimando, schifo, costa più questo che altro. Ho fatto un acquisto proprio sbagliato, sbagliato, ma se ne arrivo indietro, quanti soldi mi danno? Alexa, quanto fa 122.612 più il 20%? Ma com'è possibile? 122.000 più il 20%? 124.000. Alexa, quanto fa 122.412 più il 20% di 122.412? 146.000, io ne so spisi 165. Gorbo, dovremmo dire altro. Vado indietro sta botte, cosa faccio? Cosa mi consigli di fare, Samu, tu? Vabbè, indiappone una legge una uguale. Sì, mica c'è scritto Sandroni qui in testa. No, a parte di scherzi. Boh, io non so. Come te la teni? Che me ne tengo a fare? Se produco tanto liquone per fare mezzo campo? E metti che te la consuma meno. È il minimo, eh. Tu prendi un po', si metti lo massimo. Fai, ci manda me e mi è finito. Ma si è comprato per la spagna di età, me no. Eh, no, però te lo compro. Eh, a posto? Eh, oh, se no, eh, voglio provare. Ma non legge lo. Eh, sì, ma ha ragione. Non legge. È una madonna. E se poi funziona bene, lo compro, mi scoccio perché butto due volte i toddy. Non saprei. Vedremo. Comunque, beh, se fosse che consumasse di meno sarebbe buono perché comunque il trattore se la tira, la botte non porta poco, 30 metri voglio dire. Comunque è una buona fare. Va bene, allora, ragazzi, direi che detto questo vi ringrazio tantissimo per la visione da Dan. Sì, ma ho. Sì, sì. Te, spà. Ze, spà. È tutto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.